presentiamo il nuovo numero di Ara Barara, a parte la vignetta che ricorda la vittoria di Obama, la nostra inchiesta riguarda la scuola, non c'è più il futuro di una volta, commenti, storie di universitari e poi interventi dei dirigenti e degli studenti dei vari poli scolastici di Clusone, di Lovere, sia uno che l'altro, Lovere, Atrescore e Albino. Poi altre cose che riguardano invece l'amministrazione, Bettoni facciamo il nome del candidato della lista del Presidente uscente della provincia di Bergamo che non potrà ricandidarsi e allora manda avanti uno con la sigla Bettoni, mola mia e sarà Luigi Pisoni che è il suo assessore, da qui essendo il suo assessore caccia e pesca vi farò pescatore di presidenza perché? Perché anche Bettoni fu a suo tempo assessore caccia e pesca, taglia le comunità montane, polemiche, un commento, attenzione che il mirino non è soltanto sulle comunità montane che sembrano segnate, non solo per gli accorpamenti ma anche per il loro futuro, quanto invece, ah Val di Scalve naturalmente salva e trionfante con una vignetta fatta appunto dal nostro palo molto interessante del guerriero Belingheri che porta a casa il risultato e con contributo di altri perché lì il segreto è stato tutta la gente che correva intorno, io penso anche che l'obiettivo futuro però sia un altro e sia quello della riduzione dei comuni, vi ricordate il 1924, vi ricordate il 1927 la semplificazione di potestà, semplificazione che c'è già attraverso la riduzione degli assessori per i comuni piccoli a due, poi magari con i poteri per ridurre non si chiamerà più potestà, si chiamerà comunque sindaco e riduzione degli organi collegiali in questo caso come i consigli comunali e forse anche nel 1927 un altro colpo, l'accorpamento dei comuni. La Lega a Clusone per il 2010 candidiamo caccia puntando a una lista di centrodestra, questo qui è l'indiscrezione e l'ammissione di come ci si è mossi male per quanto riguarda le comunità montane, poi due pagine speciali, una di Ardesio e una di Pea, a Lovere il nuovo sindaco, il sindaco che succede a Vasco Vasconi, Lorenzo Taboni, in attesa delle elezioni dell'anno prossimo dice alt, sul PGT alt, ripensiamoci, quindi blocca tutto e indica come modello di sindaco proprio Vasco Vasconi e c'è anche una cosa strana, una storia, l'odore dei rifiuti di Napoli arriva fino al lago di Lovere, è una storia di cui si è parlato nei giorni scorsi per l'indagine appunto Campana sui rifiuti e c'è un dentellato anche a Lovere. E a Sovere si riapre la guerra delle bollette, Federconsumatori critica Oniacque e poi proposta Edilmora che sta costruendo tutto il borgo di Sovere dice al comune e se io ti faccio il comune nuovo qui dentro nel mio borgo, tu mi cedi quell'altro ma mi devi dare dei soldi, c'è una proposta insomma, oltre che a parlare a Costa Volpino, la maggioranza regge e come? E si spaccano i partiti. Allora partiti per suonare furono suonati, partiti in due sensi, nel senso del verbo e anche del vocabolo e poi ci sono già le raffiche di viste a Ronio per esempio, la Val di Scalve che adesso comincia ad avere la vittoria di tanti padri e poi il Basso Semino dove a Tavernola c'è un maretta in maggioranza perché c'è il PD che vorrebbe mandare a casa, vabbè, a Trescora, a N e Forza Italia verso la fusione e poi due pagine dedicate a Sodalitas e anche in Mediavalle già i primi movimenti e le prime, a meno numericamente, liste di Vertova, l'EF come dicevo con una storia molto lunga e a Albino dove il sindaco si sta rimettendo da un malore, speriamo, almeno gli auguriamo di rimettersi al più presto da questo malore e quindi si è bloccato un po' tutto e c'è la storia di Monsignor Nicoli, come inventammo sul collegando il santuario dei ciclisti, lui è che è dei ciclisti appassionati, c'è una strana storia tra Nembo e Albino dove il centro commerciale non si sa se è su Albino o a Nembo. Ara per ara!